questa è bellissima perché testimonia il vento importante che abbiamo diamo un bel po' di vento tutto abbastanza fluido chiamo una quasi nadir così vediamo al suolo tutto quanto tutto fluido spero si vedano le distanze siamo a 375 metri direi può bastare qui non arrivava assolutamente abbiamo superato i 500 metri questa è bellissima perché testimonia il vento importante che abbiamo nel frattempo triggerato il rd h perché stiamo un po rischiando dai questo video rimarrà comunque in in memoria eccolo qui si sta avvicinando stiamo stiamo a ve lo dico io a 300 metri ho praticamente effettuato un pan continuo a 360 e non eccolo qui dovreste già vederlo nessuna esitazione problema l'antenna risolto e 90 può tornare a casa a pordenone ciao 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 ciao